Ci siamo, domani si gioca il derby di Milano alle ore 18 a San Siro, Inter-Milan. Le due squadre arrivano a pari punti, avendo vinto le tre partite, quindi sono in testa la classifica da sole. Il Milan recupera Giroud, che era rientrato a Milanello dopo l'infortunio alla Caviglia che aveva subito in nazionale nella partita contro l'Irlanda. Ieri mattina si è allenato regolarmente in gruppo e quindi è pienamente recuperato. Calullo difficilmente sarà convocato, ha subito un problema muscolare e molto probabilmente non sarà della partita. Il modulo sarà sempre il 4-3-3, il Milan farà meno in difesa di Tomori, che è squalificato dopo l'espulsione subita allo stadio olimpico contro la Roma e molto probabilmente la coppia dei centrali difensivi sarà formata da Chiar e da Chao. Per il resto la formazione rimarrà invariata con Magna in tra i pali, gli esteri saranno Calabria e Teor Nandez. Al centro campo Reinders, Krunic e Lovtsucic con ovviamente di punta poi ci sarà Leao, Pulisic e Giroud. L'unico ballottaggio potrebbe essere Pulisic e Chukueze, però molto probabilmente alla fine giocherà lo statunitense. Quindi domani questa grande partita e sempre Forza Milan! Grazie a tutti!